Sì, si, ci vuole un po' di tempo. Abbiamo fatto gol! Dopo il calo di tensione abbiamo ripreso. Sì, immagini! Abbiamo fatto gol! Vecchi va bene! Vecchi ha smesso! Fermo! Vai a centro! Tira con c'è! Bravo! Buona pelucci! Uno che allunga prova! Vieni da! Buona pelucci! Escici lui! Escici lui! Andiamo a perdere lui! Vieni lui! Prestiamo, vai! Lo spasola se ne va dal suo pallone, eh! Non mi può spostare! Cagliela va! Buona! C'è vale! Va bene! Buona pelucci! Non lo voglio fare! Stai più andando più leggermente! Va bene, va bene! Va bene, va bene? Facciamo facile! Va bene, va bene! Va bene, va bene, va bene! Andere! Alluga! Alluga! Alluga di te! Buona! Alluga! Scusate ragazzi, eh! No, tranquillo! Buona era, attento, attento, bravo, avanti siete, bravo, avanti, è contagioso Stavo via Petroscaglione, mi sento che sto da sei anni a Filania, perché chi mi conosce dalla vera? No, no, ci abitava la mia ragazza una volta che ho visto, due volte fa Come si chiama la tua ragazza? Veronica, Achilleni, perché lei è una delle mie migliori amiche, abita nella mia storia Tuo fratello è il mio uno dei miei migliori amici Bella ragazza, complimenti La verità Mio, ancora acqua, tu tu la prendi? Tavo il soffio Posto dolore Di vasche non c'entra niente Poi tu sembra che lo facevi apposta, calciavi sempre da là, da là, da quella zona dove hai ben ricordi, visto che si sono spentati le luci è stato un caldo di tensione, ma verso fine secondo tempo si accengono, dai dai dai, bello complimenti Sì, taglia, si taglia, adesso vedrai la nuova video Allora, all'argo, all'argo Allora, all'argo Vicino, 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 così, occhi dentro Quarto minuto Purtroppo sono passati solo quattro minuti Vai Va bene, va bene Sta sento? Sì Meglio dall'altra volta Molto meno Molto meno Bravo Bravo Ho preso la palla Ma un attimo del spallo E' che quelli, sono due interventi uguali, che ci sei dentro? Venti davanti Vabbè, ci sono pure le luci spente, dobbiamo capire No, l'apطtivo Non sa solo Ovvero No Messi distance Molto meno Sì